Niente di personale. Devo soltanto porre fine alle vostre vite. A qualcuno serve una bella lezione. Per favore, pensateci a quelli. Vedi farlo per forza. I vostri sforzi mettono ancora più in pericolo il genere umano. Maledizione, è chiuso. Queste creature non dovevano esistere. Ma perlomeno mi saranno bene. Ha mali estremi. Estremi rimedi. È male a certo, sono stato infettato. Non posso restare con le mani in mano e lasciarvi fare. Sì! Ah! Contrata! È una porta chiusa. Devo per forza intervenire io. Se è qui, lo troverò. Basta! Non fuggirete mai via da qui. È incredibile che siate arrivati fin qui. Tuttavia, devo eliminarvi una volta per tutte. Cerco di vedere qualcosa. iti. Cuoche? Cioè. Posso occuparmene io stessa. Deve esserci qualcosa di utile qui. Accogliete la vostra morte. Non ci siamo. Andiamo per forza a buttarla. No, che cazzo di porte. Cerco di vedere qualcosa. Ora va meglio. Questo è per quanto hai dimenticato il mio compleanno, William. Chi è quell'impiota? Molto bene. Ma avete trovato un metodo barbaro, ma sono certa che andrà più che a me. E' andata. Adesso c'è qualcosa di utile qui. Ben, prendete pure la tessera di sicurezza. Ho tutto il tempo per fermarvi. Se è qui, lo troverò. Devo cercare di aumentare la sicurezza degli altri. No. Ma se è la pina di oro. E' una grande introduzione del servizio. No, ba là. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Ma che cazzo è? Non avete alcuno scampo. Prolungherà solo la tua agonia. Controllo! 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 Pagheriamo tutto! Se è qui, lo troverò. Ho un metodo barbaro. Ma sono certa che avrà più per me. Pagheriamo tutto! Deve esserci qualcosa di più ci siamo. Non capisco come sia potuto succedere tutto questo. RIDERAR Stavo per vivere la scocena. Ti ringrazio. Grazie a tutti. USA! USA! Pensate che le vostre misere vite valgano più di tutto il genere umano!